Ben trovati dal Tg della mobilità emergenza coronavirus fino a 24 novembre bar e ristoranti chiusi dalle 18 come previsto dal nuovo decreto del governo tra l'indicazione del testo la raccomandazione di limitare gli spostamenti a Roma e nel Lazio resta il divieto stabilito dalla regione per gli spostamenti dalla mezzanotta alle 5 del mattino anche in questo caso le uniche eccezioni sono esigenze di lavoro o emergenza che vanno giustificate con una autocertificazione il modulo è sul sito regione.lazio.it Lavori notturni dalle 20.30 alle 6 sull'autostrada Roma e Fiumicino per il rifacimento della pavimentazione i lavori in direzione Roma vengono eseguiti durante la settimana esclusi giorni festivi o prefestivi ANAS fa sapere che la conclusione è prevista per il 30 ottobre è tutto per questa edizione